Allora, come avete notato, ho appena aperto il pacco della FACUS, il marchio italiano con cui collaboro ormai da sei anni e se collaboro con un marchio da così tanto tempo è perché ragazzi veramente i prodotti che hanno in commercio questo marchio nostrano sono dei prodotti davvero davvero validi, prodotti che davvero consiglio. Loro hanno bacchette ma anche accessori quindi hanno iPad, hanno portabacchette, hanno tantissimi tantissimi prodotti. Oggi voglio parlarvi naturalmente di bacchette e voglio parlarvi delle due bacchette che sicuramente sono tra le più vendute in commercio, quindi le bacchette 5A, ok? Queste bacchette qua, le 5A e le bacchette 7A. Molti miei allievi mi dicono ma cosa mi consigli tra questi due modelli, le 5A oppure le 7A? Allora, innanzitutto cerchiamo di capire qual è la differenza tra queste due, tra questi due modelli, tra queste due sigle, le sigle sono sigle universali quindi le trovate anche, qualsiasi marchio usate trovate sempre le stesse sigle. Possono cambiare qualche specifiche tecniche ma bene o male diciamo che dovrebbero essere tutte più o meno simili. Allora, naturalmente, allora, il materiale è legno Ichkori selezionato. Cosa cambia tra le due, tra le due bacchette? Cambia la lunghezza ma non eccessivamente perché la bacchetta 5A è lunga 406 mm a differenza della 7A. In questo caso io ho il modello 7A Faster che è un pochettino più leggera rispetto alla 7A normale. La 7A Faster è lunga 406 mm, quindi proprio ci sono due millimetri di differenza, come potete vedere. Proprio una roba impercettibile. Poi parliamo della punta. La punta cambia tra le due, tra la 5A e la 7A perché la 5A ha la punta a oliva, come potete vedere, mentre invece la 7A ha la punta a sfera. Quindi naturalmente questo va a influire anche sul suono, ok? Adesso sul pad non si sente. Questa è la 7A Faster, mentre questa è la 5A che già ha una differenza, la sentite già sul pad. Quindi la lunghezza 7A e la punta già fanno la differenza. Poi abbiamo anche il diametro della bacchetta stessa. Il diametro è di 14,45 mm nella 5A normale, nella 7A Faster è di 13,50 mm. Quindi, allora, le differenze sostanziali quali sono? Sono che la bacchetta 7A Faster è una bacchetta molto più snella, molto più leggera, mentre la 5A è un pochettino più robusta. Naturalmente non è una robustezza eccessiva, non parliamo di una bacchetta 2B. È una bacchetta però molto versatile, la 5A. Io la uso per fare di tutto. Quasi sempre io uso la 5A perché è una bacchetta che non è eccessivamente pesante, quindi chiaramente una bacchetta eccessivamente pesante la possiamo utilizzare per lavorare, per studiare la tecnica, ma anche per avere più volume nei concerti. Quindi se devo fare hard rock o metal, magari una bacchetta più robusta mi può dare più sostegno. Però c'è anche da dire che essendo più pesante chiaramente mi affatico anche un pochettino di più, quindi devo essere allenato anche in questa direzione. invece la 5A comunque sia una bacchetta che secondo me è molto versatile. Puoi farci dal pop al rock al latin, qualsiasi cosa tu debba suonare. Quando è che però invece utilizzo la 7A? La 7A la utilizzo, eccomè, caduta, mannaia. La 7A la utilizzo quando devo avere più controllo del volume. Quindi generalmente se devo suonare in un locale al chiuso, quindi dove magari mi dicono, oh batterista mi raccomando stasera picchia piano eh, perché quello lì è sempre il motto che i gestori dei locali hanno con me. Quindi allora generalmente cosa faccio? Allora oltre a utilizzare un set con dei diametri piuttosto piccoli eccetera eccetera, allora vado ad utilizzare le bacchette 7A faster perché sono molto leggere. Quindi chiaramente essendo leggere da una parte per me è molto utile perché non vado a sforzare il muscolo perché proprio sono molto leggere, no? Come vedete. Quindi non faccio fatica nel suonare ma soprattutto anche ho un volume un pochettino più controllato perché appunto sono più leggere. Naturalmente essendo più leggere e si chiamano faster apposta, da da da, chiaramente se devo suonare degli stili particolarmente veloci ma con un volume controllato come può essere ad esempio il funky o il jazz, queste bacchette sono la morte loro. Cioè proprio queste bacchette si sposano perfettamente se tu devi fare funky, quindi magari devi suonare un ostinato in sedicesimi alla Billy Cobham su Charleston, quindi magari usi la Gladstone Technique, quindi ti serve un qualcosa di snello che chiaramente non puoi fare con una bacchetta che pesa 5 kg, ok? Quindi questa qua diciamo che può essere l'ideale per fare funky o jazz. Quindi 5A o 7A, dipende cosa devi fare, dipende il volume. Se ti è piaciuto il video quindi metti un mi piace. Tu cosa usi? Scrivilo tra i commenti.